Enego un anno dopo. Era il 25 giugno 2017 quando il maltempo fece saltare la rete delle fognature e i sistemi di raccolta con trada fosse di mezzo. Qui lo ricorderete un boato tremendo alle 7 del mattino di una domenica d'estate ed esplosero massi e il manto della mulattiera. I detriti trasformarono la via principale del comune in un torrente di asfalto, fango e liquami, le case invase, solo paura, tanta e contando i danni si parlò di 5 milioni di euro. La Regione dichiarò lo stato di crisi per garantire il coordinamento e l'assistenza agli enti locali per l'intervento di soccorso e superamento dell'emergenza e la possibilità di ricorrere, se necessario, alle risorse del Fondo regionale di protezione civile per gli interventi più urgenti. Nessuno in quell'occasione rimase ferito, tanti i volontari che lavorarono per ore, per giorni, per riportare la normalità a un paese ferito nel profondo. In questo anno molto è stato fatto, anche se i residenti non si sentono ancora del tutto sicuri. Il timore è che possa ripetersi una catastrofe come quella del giugno 2017 e nonostante i lavori di sistemazione siano partiti praticamente subito a ogni pioggia torrenziale. Enego trema.